La Fincantieri ha deciso di sospendere le attività produttive in tutti gli stabilimenti italiani dal 16 al 29 marzo compresi, disponendo la chiusura di tutti i siti di Fincantieri con ricorso a ferie collettive, anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva. Lo ha comunicato l'azienda e i propri lavoratori in una comunicazione interna, sottolineando l'importanza di ridurre la possibilità di contagio. Dura la replica dei sindacati, grave e irresponsabile, così FIM CISL e FIOM CGL hanno definito la decisione della Fincantieri a presa solo oggi, ovvero di procedere unilateralmente con una fermata collettiva con le ferie in tutti i cantieri e in tutte le sedi, dal 16 al 29 marzo, sostituendo le ferie collettive di agosto. Per FIM e FIOM in questo modo l'azienda affronta la crisi scaricandola totalmente sui lavoratori ed esprimono pertanto ferma contrarietà, sottolineando che in alternative le organizzazioni sindacali avevano proposto l'utilizzo degli ammortizzatori per la prossima settimana come disposto dal DPCM del 11 marzo, utilizzando quindi la prossima settimana per confrontarsi con l'azienda. FIM e FIOM hanno inoltre ribadito che le iniziative di messa in sicurezza, sanificazione e riorganizzazione dell'attività vanno fatte attraverso l'uso degli ammortizzatori come previsto dal DPCM dell'11 marzo. Le organizzazioni sindacali sosteranno i lavoratori per far varere gli inalienabili diritti individuali.